Stessi luoghi, stessi personaggi, o quasi. Non desidero altro che tu sia felice. Il tempo passa, le stagioni si susseguono, la vita va avanti. Grazie. Non ce l'avrei fatta senza di te. C'è una cosa però che non cambia mai. Il fatto che tutto cambia, sempre. Questo è il nostro momento. Ma non sempre siamo pronti di fronte agli imprevisti. Private Practice, la sesta stagione. Da questo martedì alle 21 su Fox Life.